Sì, è soddisfatto ma adesso restiamo con gli occhi puntati su questo giovanissimo fenomeno americano, la prima ragazza americana a salire su un 9A ormai nel paese a stelle e strisce è diventata veramente un idolo dell'arrampicata, una trascinatrice anche di tutto quello che è l'olto pubblico americano che ama scalare, lei che è su roccia come sulle gare sa veramente entusiasmare, soprattutto il pubblico femminile, allora occhi puntati su Sasha Di Giulia è un grande scimbo americano, un idolo in Arco, un idolo in il nostro paese, incredibili le scuole per le loro stelle, è davvero un show, guardate le movimenti del mondo di scimbo è un grande scimbo americano, un idolo in Arco, un idolo in Arco, un idolo in Arco ecco e ecco 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 è sempre bella, precisa, delicata direi soprattutto Sasha Di Julian scala al millimetro sugli abiti arriva precisa ed efficace poi si avanza su questa bella linea verde andremo a vedere come andrà a interpretare la giovane americana questi 40 movimenti 8 a più già richiesto più volte ma giusto per sottolineare sempre la alta prova richiesta per questi atleti in una salita outside come on Sasha guarda alta e adesso prova a fare quello che si dice la seconda ricognizione il famoso warm up in real time presa dopo presa i famosi armini che magari da piano terra potrebbero dare un'altra immagine adesso bisogna metterli sotto le dita e avanzare a lei Sasha come on e di certo seppure il peso è veramente di light solo 43 kg per 157 cm di altezza queste sono le misure dichiarate di Sasha Di Julian lei comunque si dipende e anche bene sugli strapiombi dove a volte serve a me veramente avere braccia forti e dominare la gravità come on Sasha molto smart apparentemente Sasha Di Julian ma incredibilmente strong e si muove 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 fatemi sentire sotto gli ombrelli sotto i vostri cusci non mollate c'è Sasha Di Julian sulle prese alle che buona Sasha come on come on come on come on Sasha